Mi chiamo Mirko Cavina, ho 46 anni e sono sposato con Cristina, abbiamo tre figlie e da recentemente abbiamo venuto a casa con Garoni Immobiliare a Tredozio e siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. In realtà ti ho conosciuto Cristina, mia moglie, tramite degli amici che hanno venduto casa tramite Garoni Immobiliare per cui è stata lei di avere il primo contatto con te. Io inizialmente ero un po' scettico perché da sette anni che avevamo la casa in vendita e saranno venute due persone ma in realtà non interessate ad acquistare e invece devo dire che poi da quando abbiamo mandato per vendere in casa sono cambiate le cose, fino a arrivare poi alla vendita che era la cosa che ci interessava principalmente. Abbiamo visto comunque il metodo applicato che poi è stato lo stesso che avete utilizzato con noi quindi anche il modo stesso in cui viene presentato l'appartamento, i video, la pubblicità che viene fatta sui social che oggi sono uno strumento principale di divulgazione e abbiamo visto diciamo un metodo proprio dietro al modo di lavorare di Garoni cose che da altre parti non avevamo... ci eravamo già affidati in passato ad altre agenzie ma non siamo stati seguiti come in questo caso. Risultato direi importante perché appunto abbiamo avuto diverse visite e l'ultima è stata assolutiva, siamo riusciti a arrivare diciamo a un punto di incontro con la parte compratrice per cui siamo riusciti a vendere casa considerando i tempi anche a un prezzo soddisfacente insomma. Consiglierei per quanto riguarda la mia realtà diciamo in un paesino piccolo di collina assolutamente perché appunto ho superato completamente lo scetticismo iniziale non credevo che affidandomi all'agenzia di faenza sul paesino piccolo di collina potesse arrivare tanta gente a visitarla per cui ho già consigliato ad altre persone che vogliono vendere casa a tre dozzi di rivolgersi a Garoni appunto come dicevo prima per il metodo utilizzato che è assolutamente vincente posso dire.